A Udine si è riunito il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico per valutare possibili interventi in Viale Leopardi e anche in Borgostazione, dove è ritornata la preoccupazione dei cittadini per fatti di cronaca come risse avvenuti nei giorni scorsi. Giovanni Taormina. Un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, per fare il punto sulla situazione della città di Borgostazione, ma soprattutto della zona di Via Leopardi e d'autostazione delle Corriere. Dopo i recenti fatti di cronaca e le mantelle dei cittadini, bisogna dare un segnale concreto e riapproparsi di questa parte di territorio. Una maggiore attenzione a quello che ho chiesto sia alle forze dell'Ordine e soprattutto anche condividendo alcune scelte di adeguamento, di eventuale riqualificazione anche all'amministrazione comunale. Non un giro di vite, ma sicuramente un'attenzione particolare che, alla luce di questi episodi che si sono ripetuti negli ultimi giorni e anche delle dimostranze di alcuni cittadini, ci è sembrato doveroso e opportuno. Segnali concreti da parte sia delle forze dell'Ordine che dell'amministrazione comunale. Nel giro di poche settimane apriremo anche questo ulteriore presidio che mi auguro dia ulteriore sicurezza a questo quartiere, ma sono tante le iniziative, diversi provvedimenti a livello di regolamento di polizia urbana, ordinanze del sindaco ed è inoltre anche in fase di aggiudicazione l'appalto per l'implementazione della videosorveglianza e tante telecamere verranno installate proprio in quel quartiere. Un piccolo giro di vite per dare sicurezza ai cittadini, ai commercianti che vivono e operano in quella zona. Grazie.